Ciao ragazzi, sono Mimmo Aprile, insegno informatica all'interno di un liceo scientifico della provincia di Brindisi e volevo dirvi qualcosa riguardo l'innovazione. Che cos'è l'innovazione a scuola? Beh, scuola e innovazione devono essere sinonimi. La scuola è il posto migliore dove potete entrare, dove potete stare, dove potete sentirvi a casa vostra, lavorare, sviluppare creatività, crescere, immaginare un futuro che ancora non esiste, abbattere quei muri e andare oltre quello che normalmente è nell'immaginario comune la scuola. L'innovazione è qualcosa di presente e che deve essere presente nella vita di tutti noi, sempre di più e nella vostra in particolare. Io in particolare insegno informatica curvandola sul making, quindi sull'utilizzo dei microcontrollori, Arduino, robotica, per cui è veramente la cosa più bella in assoluto da praticare. Ciao ragazzi! Grazie!